Musica Musica Destro di Mugia, balle in rete, il vantaggio della Juventus con Mirko Vucinic, un gol straordinario del Monteregrino, un gol straordinario! Quagliarella in tiro e la palli in rete, ma la Juventus è vantaggio, non voglio Quagliarella, un super così Quagliarella! E' un gol pesantissimo, è un gol pesantissimo! Musica 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 Musica